Musica Mi avete mandato molti messaggi chiedendomi di commentare questo video di Nick Walker che trovate sul canale di HD Muscle dove il buon Nick spara a zero su un sacco di suoi colleghi bodybuilder quindi vediamo un po' cosa dice Nick si accanisce particolarmente su Samson Dauda dicendo che ha una schiena piatta ma secondo me Samson non è una schiena piatta anzi è anche abbastanza denso e tridimensionale il problema della schiena di Samson sono i dorsali come ho detto in un video qualche giorno fa dove è anche un po' asimmetrico tra dorsale sinistro e dorsale destro ma in generale sono mesi che lo dico secondo me Samson Dauda ha dei dorsali un po' carenti però Samson ha comunque battuto Nick Walker qualche mese fa all'Arnold Classic quindi magari ha anche un po' il dente avvelenato Adi Chupan dice che è una one hit wonder cioè ha vinto il misto d'olimpia una volta e non si ripeterà questo quello che pensa Nick invece parla abbastanza bene di Hunter Labrada non so per quale motivo deve essere che gli piace praticamente il suo fisico dice che da quando ha mollato la sua dieta liquida se vi ricorderete Hunter Labrada era stato molto criticato soprattutto da Nick Trigili perché faceva praticamente 5-6 pasti di shake di proteine frullati e cose del genere e secondo Nick da quando Hunter ha iniziato a mangiare in maniera più normale ha avuto dei miglioramenti generali ma anche secondo me Hunter è abbastanza migliorato più che altro nella parte bassa della schiera non è eccezionale però secondo me è migliorato di Big Rami dice che è finito nonostante gli sia molto simpatico umile e ne parla molto bene in generale ma nonostante ciò pensa che sia finito è confinto immagino nel senso non vincerà mai più il mistero olimpia non farà mai piazzamenti eccezionali e cose del genere poi parla anche di Reagan Puccettone Grimes e dice che dovrebbe concentrarsi più che altro sulle cose di Instagram che non ha la mentalità per fare il bodybuilding che è un po' quello che ho detto miliardi di volte nel corso degli anni non tanto che debba concentrarsi su Instagram cioè io vorrei che si concentrasse sul bodybuilding ma che secondo me è più concentrato su queste cose da influencer e non vuole premere il pedale sull'acceleratore questo l'ho detto un casino di volte ma voi saprete benissimo quanto a me piaccia Reagan Grimes quindi non sto dicendo niente di nuovo io però anche Nick Walker la pensa come me alla fine ma secondo me molti la pensano come me perché i risultati di Reagan Grimes non sono mai sufficientemente elevati da giustificare il tipo di fisico che ha che secondo me è incredibile molto molto completo molto estetico ha tutto gli manca solo la definizione e quella pienezza muscolare quando arriva definito quindi questo è quello che dice un po' Nick sparando a zero sui suoi colleghi poi come ho detto miliardi di volte a me piace tanto Nick sia come bodybuilder ma anche come persona perché non ha paura di dire quello che pensa rischiando di essere impopolare questa è una cosa che io apprezzo tantissimo nelle persone in generale cioè odio la gente che non dice quello che pensa perché se no magari qualcuno si offende chiama la polizia i sentimenti eccetera 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 anche col rischio poi di essere non dico perculato perché chiaramente Nick è arrivato secondo all'Arnold Classic ci si aspetta sempre molto da lui dice che vince l'Olimpia vince quello vince quell'altro poi non vince però stigati ci apprezzo molto di più una persona che ha le palle di sbilanciarsi di dire quello che pensa anche rischiando appunto di essere impopolare piuttosto che quelli che non dicono quello che pensano non si sbilanciano eh sì bla 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 sono molto tenerini e vorrei dire un'altra parola che non significa essere gay però che io utilizzo quando le persone non si comportano da uomini molto semplicemente inizia con la F comunque e quindi cioè queste persone dovrebbero continuare a tenere la borsetta alla fidanzata e a allacciare le scarpe alla fidanzata se hanno la fidanzata eh perché mi stupirebbe anche quello però apprezzo molto Nick per la sua schiettezza non me ne sbatte un cazzo se arriverà dietro a Samson Daud o altro perché io come ho detto migliore di volte non sono un tifoso del bodybuilding io non tifo assolutamente nessuno spero sempre che vinca il migliore però mi piacciono i personaggi come Nick cioè gente senza piedi sulla lingua persone che dicono quello che pensano poi potrà anche essere asfaltato da Regan Grimes Samson Daud e compagnia bella ma non è quello il punto del discorso il punto è che sono contento che ci siano persone ancora nel mondo che dicono quello che pensano a prescindere dal contesto e c'è bisogno di gente come Nick secondo me nel bodybuilding ma anche anche nel mondo e purtroppo non ce ne sono tante di queste persone però l'importante è che noi andiamo dritti per la nostra strada incuranti di quello che pensano gli altri e questo è quello che fa Nick quindi very compliments molto molto nobile buona grazie a tutti Grazie a tutti.